dal 2001 per i tanti turisti che visitano taormina c'è un luogo dove scoprire l'essenza della sicilia in un drink quel luogo è morgana cocktail bar fondato da guido spinello e cristian sciglio ma quali parole sceglierebbe guido per raccontare morgana a chi non lo conosce le tre parole che mi vengono per descrivere morgana sicuramente formativo entusiasmante e creativo in ognuna di queste ci vedo e ci vediamo qualcosa di interessante creativo perché ogni anno ci dà l'opportunità di creare qualcosa di diverso come ogni anno cerchiamo di dare anche al cliente un'atmosfera diversa quindi siamo lì con i nostri designer a creare sempre qualcosa di nuovo ma non solo creativo dal punto di vista proprio estetico ma creativo anche nella nell'idea di come accogliere al meglio il cliente inventare sempre qualcosa di nuovo formativo perché in qualche modo è sempre un modo per formarsi conoscere migliorarsi entusiasmante perché ci dà sempre l'opportunità tutto questo di essere veramente stimolante entusiasmante per raggiungere nuovi nuovi obiettivi e quale ricordo invece morgana vorrebbe lasciare nei suoi clienti l'idea sicuramente è far vivere un'esperienza autentica di una casa autentica una casa del sud italia e siciliana in questo contempo diciamo che siamo veramente innamorati dell'accoglienza e del servire quindi l'idea proprio di entrare ecco in questa casa siciliana e poter accogliere il cliente al meglio questo forse tra le per i primi ricordi che vogliamo un po vogliamo dare come dicevo prima cosa vogliamo lasciare vorremmo lasciare sicuramente l'opportunità di aver vissuto un'esperienza unica cos'è per noi un'esperienza un'esperienza è sicuramente l'opportunità di far vivere al cliente e di stimolare tutti i sensi quello è la parte finale per far vivere un'esperienza wow in stile siciliano e farla vivere wow significa far combinare tutti diciamo tutti i fattori quelli possono essere visivo uditivo olfattivo e combinarli fra loro e creare il miglior cocktail possibile per far sì che quando tornano a casa portino con sé un ricordo incredibile di quello che è stato il mondo taormina e il mondo morgana ricco e vivace è l'immaginario alla base della drink list descritta da christian sciglio l'idea drink list 23 nasce con dal progetto stesso del morgana al morgana del cambiamento del morgana infatti prende spunto dai colori sette i sette colori principali dell'arcobaleno quindi dell'iride abbiamo per esempio un cocktail che parte dal rosso il che che rappresenta un po' la parte calda del nostro drink al verde che è la parte più fresca il rosso per fare un esempio viene creato con un grand tour gene che è un gene di nostra produzione del del barbom quindi un bullet barbom abbiamo del martini rubino un bitter fusetti dei lamponi e del peperoncino che dà la parte calda la parte fresca viene fatta con una galia che è una tequila siciliana del lama cappero che un liquore un amaro al cappero siciliano creato proprio qui a taormina e della mela verde per quanto riguarda l'idea dei colori proprio creare far far vivere un'esperienza al cliente oltre a quello che vede all'interno del morgana quindi cambiamenti vari colori che ci sono lo vive anche nel verde nel degustare dei del gusto di verde gusti diversi e anche la presentazione del vario cocktail diverso perché avranno sette colori diversi e in più quello che diventa poi conviviale fra clienti e la parte soprattutto della del menù della scelta del cocktail perché quest'anno abbiamo creato una una trottola che si va a giocare man mano gira e poi esce magari a sorprese il cocktail che il cliente vuole andare a scegliere cristiano osserva con interesse quanto accade nel panorama della mixologi e cita in particolare un collega bartender sì sicuramente il fatto di girare andare in giro e scoprire nuovi locali è molto importante soprattutto per la credibilità nostra una la persona diciamo che che mi dà un maggiore ispirazione in questo momento è simone caporale perché crea sempre dei drink molto freschi molto bilanciati e mai esasperati infatti penso che il mondo del drink sta cambiando nuovamente fortunatamente sta tornando un po indietro quindi si sta avvicinando un po ai classici anche per far scoprire la nuova generazione un classico cocktail ma in una maniera diversa rivisitata con maggiore qualità un prodotto che mi dà molta ispirazione in questo momento è sicuramente usare dei prodotti odottoni quindi usiamo usare dei prodotti nostri siciliani come ad esempio facevo prima prima dicevo sul grand tour gene che è un gene di nostra produzione che ho creato io o a galia che è una tequila siciliana o la macappero stesso questi mi danno ispirazioni perché comunque sono dei gusti diversi rispetto a quello che possiamo andare a trovare a londra a new york a singapore chiudiamo con una notizia nel futuro di morgana non c'è solo la sicilia ci stiamo pensando abbiamo dei finanziatori interessati a sviluppare il marchio morgana anche fuori da tauromina è un marchio è un concetto più che marchio sicuramente interessante e replicabile interessante perché parla di una fascia oraria il morgana apre alle già nel pomeriggio quindi riesce a trovare una sua connotazione ben precisa nella parte aperitivo e continua nella parte della dopo cena ha una parte estetica ben distinguibile e interessante da poter essere conigliata oggi in tante realtà che siano delle mete diciamo di villeggiatura turistiche piuttosto che delle città abbiamo visto alcune alcune idee ci hanno proposto già alcune idee fuori dall'italia ed è un qualcosa che stiamo valutando aggiungerei anche che l'esperienza morgano oltre quello che ha detto guido è anche la parte fondamentale che la parte di accoglienza che è quella che ci piace veramente fare tanto che far vivere anche magari in altri paesi all'estero secondo noi è molto importante soprattutto con naturalezza perché quello che realmente poi è diverso rispetto ad altri posti del mondo all'estero 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 all'estero